L'inserimento socio-lavorativo di soggetti con disabilità mentale e fisica è questo l'obiettivo che si dà a un progetto che utilizza fondi europei e che il comune di Arezzo con gli altri comuni della zona socio-sanitaria stanno appunto cercando di portare a termine. L'obiettivo è davvero molto alto e anche insomma molto importante per le famiglie che hanno al loro interno questo tipo di soggetti. La cosa però essenziale è far incontrare diciamo bene la domanda con l'offerta cioè che il soggetto ovviamente che si offre di ospitare insomma questi lavoratori svantaggiati lo faccia davvero con tutte le buone volontà. L'appello parte dai comuni in questo caso dai comuni della zona socio-sanitaria retina con Arezzo ovviamente capofila anche per ragioni diciamo così di dimensione geografica e demografica ma lo facciamo insieme e lo apriamo ovviamente ed è fondamentale che ci siano tutte le realtà del terzo settore perché è chiaro che il tema del lavoro non si risolve con proposte soltanto auliche ma si risolve con proposte concrete quindi il terzo settore le categorie tutti coloro i quali hanno il diritto e il dovere di parlare di lavoro insieme alle amministrazioni dovranno se vorranno io desidero che sia così essere parte di questo progetto. Ci sono in ballo quasi 500 mila euro che sono soldi importanti 500 mila euro che possono essere in qualche modo intercettati al 100% e quindi li vogliamo al 100% li prenderemo al 100% se saremo capaci di fare un progetto insieme. Insieme vuol dire il pubblico con il privato, le istituzioni con le associazioni, il primo, il secondo e il terzo settore nell'interesse delle famiglie retine.